Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Vi faccio questo vlogettino velocissimo per comunicarvi che sono tornato in live su Twitch Dove tratto su Twitch videogiochi Mentre invece quando farò la live doppia sia su Twitch che YouTube Quindi la potete seguire tranquillamente in due piattaforme differenti Porterò giochi di ruolo, giochi da tavolo, ma anche just chatting Quindi farò anche delle live dove parleremo semplicemente, magari sceglierò anche un argomento, qualcosa Giochi da tavolo, giochi di ruolo, ma anche videogiochi o quant'altro Anche attualità, si può parlare di quello che ci pare E sono live che farò da tutte e due le parti Mentre invece videogiochi, quelli li porterò unicamente su Twitch, non farò la live doppia Quindi vi ricordo perché tante persone mi dicono sempre Ah ma sei tornato... sono due anni che sono tornato a fare i video Ah ma sei tornato a fare le live perché le notifiche di YouTube non arrivano Quindi attivate la campanellina nel mio canale Quando vi iscrivete c'è la possibilità di attivare la campanellina E a quel punto la notifica ti arriva sempre e tempestivamente al secondo Perché in quel caso lì funziona bene E tra l'altro iscrivetevi al canale Twitch Perché anche lì quando parto con le live dovrebbe arrivare la notifica Almeno a me sul telefonino mi arriva Coridan appena iniziato una live Perché regolarmente, ora poi mi sto riorganizzando per magari rifare live tutti i giorni Però comunque ora già regolarmente almeno due o tre volte a settimana La sera siamo in live sia su Twitch che quando faccio il doppio argomento su tutte e due le piattaforme Quindi ricordatevi di iscrivervi al canale Twitch Tanto trovate tutto comodamente in descrizione E per il canale YouTube attivate la campanellina Perché se no quando esce un nuovo video o parte una nuova stream ve la perdete Comunque uno se le perde da una parte, se le perde dall'altra vi do la terza opzione Sempre in descrizione Canale La nostra pagina Facebook del mio canale Coridan Perché ogni volta che vado in live, carico un video o quant'altro Comunque metto sempre lì la notizia Quindi perlomeno non ve lo perdete Vi aspetto ragazzi perché ci sono molti progetti che vorrei portare Giochi di ruolo, giochi da tavolo, chiacchierate, videogiochi Voglio portare un po' tutti gli argomenti che hanno caratterizzato il mio canale Quindi non mancate, vi aspetto su tutte e due le piattaforme Ciao ragazzi, alla prossima